Abbiamo fortunatamente recuperato tutti, Pepe si è allenato, sta bene e anche Campagnaro si è allenato con il gruppo anche ieri, ha fatto non tutto l'allenamento ma qualcosa, stamattina ha fatto il test definitivo, non ha sentito dolore quindi è disponibile. Non c'è una partita che è meno fondamentale di un'altra perché sono sempre tre punti, che sia uno che sia l'altro, poi è ovvio che negli sconti diretti è ancora più importante, però sappiamo che andiamo a giocarci una fettina importante del campionato perché è uno sconto diretto, perché è importante fare punti. In un campo comunque complicato, il Crotone è una squadra che ha raccolto più o meno come noi ma è una squadra in salute perché chi l'ha vista, chi ha visto le ultime partite è una squadra che è sul pezzo, è viva, da filo da torcere a tutti, un po' come noi. Certamente la pressione pende un po' più dalla loro parte perché ovviamente giocano in casa, sappiamo che è un campo, ci siamo passati l'anno scorso, è un campo caldo, molto caldo, loro certamente partiranno forte, vorranno metterci in difficoltà ma noi andiamo a Crotone per fare la nostra partita, convinti, decisi e provando a fare il risultato. Questa è una squadra che secondo me è un po' più attendista in determinati frangenti della partita, è molto ordinata, è una squadra molto ordinata in campo e che sfrutta molto molto bene le ripartenze, hanno giocatori veloci, rapidi, quando ripartono ripartono tutti assieme, 4-5 giocatori sono veloci. Alberto sta bene come stanno bene tutti gli altri, quindi in questo momento abbiamo recuperato giocatori, la scelta è più ampia certamente delle scorse settimane e vediamo, vediamo anche in base a come vogliamo affrontare la partita, in base alle caratteristiche che servono in campo, però tutti hanno delle chance, ovviamente non è che diamo vantaggi.